Ciao a tutti amici dell'acquario, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami acquario, tendenze energetiche e affettive per la prima parte di novembre 2022. Ok. Abbiamo la carta del diavolo, amici dell'acquario. Periodo di tentazioni, probabilmente per qualcuno, la prima parte di novembre. Potrebbe anche parlare di qualche tipo di schiavitù o di blocco che possiate sentire. Normalmente parla un po' di energie, diciamo, lente, basse, come la rabbia, come... Cioè, lente nel senso che appesantiscono, ok? Quando c'è la carta del diavolo si parla sempre di una sorta di schiavitù che però è volontaria. Può essere una schiavitù da una situazione, perché mi parlano di lavoro, quindi per qualcuno è una situazione lavorativa, anche se questa è una stesa di affetti, magari le due cose sono insieme, oppure è proprio una situazione affettiva, un po' incastrata, diciamo così. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si parla. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo e quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso volete approfondire il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere. Per chi poi volesse contattarmi, trova l'indrizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, cominciamo con una torre al contrario, ragazzi, la carta dell'appeso, un cavaliere di pentacoli, abbiamo un fante di spade, un quattro di coppe, un re di spade al contrario e la carta dell'eremita. Vi ricordo che la prima linea è per gli affetti in generale, quindi anche quelli familiari ed amicizie, poi andremo a vedere per i single e per le relazioni di coppia. La carta della torre al contrario mi dice che c'è qualcosa che vorresti interrompere e penso fortemente che sia il diavolo. Questa sorta di blocco, questa energia un po' incastrata che sentite in questo momento intorno a voi e in effetti c'è anche la carta dell'appeso che è proprio la carta di qualcuno che si sente legato, si sente appeso anche a un filo per qualcuno. Credo che qui comunque con la carta dell'appeso ci sia la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. Probabilmente è una situazione per qualcuno parecchio difficile dalla quale non si vede via d'uscita o diventa difficile mettere in atto una via d'uscita e quindi c'è una sorta di accettazione della situazione con la carta dell'appeso che non è rassegnazione ma è un'accettazione di tipo positivo, cioè è quell'accettazione che una volta che uno dice vabbè ok non ci posso fare proprio niente, quindi accetto semplicemente questa situazione e da qui riparto, da qui vado avanti. Potrebbe fortemente essere riferita al cavaliere di pentacoli, nel senso che potrebbe essere la persona verso la quale ci sia questa sorta di blocco, questa sorta di situazione un po' stagnante e qui con il fante di spade è un po' come se vi dicessero di aprire gli occhi, di tenere forse un po' più sotto controllo, anche se in realtà essendoci la carta del diavolo il controllo ce l'avete già abbastanza, o lo state subendo o lo state praticando su qualcun altro ok, però sento che è più un controllo che voi state subendo e che invece dovreste fare nei confronti degli altri, un po' come se vi dicessero di fare più attenzione alla realtà che vi circonda e soprattutto avendo l'energia del cavaliere di pentacoli di andarci con i piedi di piombo, perché il cavaliere di pentacoli è sempre un'energia molto ma molto lenta ok, il 4 di coppe è una carta che parla di qualcuno che sta aspettando qualche movimento dall'esterno, oppure potrebbe essere vista anche come un'offerta, una proposta che potenzialmente potrebbe esserci, ma si è talmente focalizzati in quello che non si ha in questo tipo di energia di blocco, si è diciamo c'è una sorta di ristagno sia a livello mentale sia a livello emotivo, sento io, per qualcuno anche proprio fisico, nel senso di non si può spostare a livello fisico da una situazione e quindi ci sarebbe voglia di questa spinta, se vogliamo, di questa possibilità, di questo dono. Il punto qual è? Che in realtà ci sarebbe questo dono, ma avendo il cavaliere di spade al contrario, siete voi che non sapete bene da che parte andare, non sapete bene perché il cavaliere di spade è sempre un'energia intermittente, quindi mi dice che un po' siete nel ok vado avanti per la mia strada, vado avanti poco per volta e dall'altro lato invece c'è questo condizionamento che comunque è molto forte. La carta dell'eremita è come se vi consigliasse di fare un lavoro interiore, di trovare quello che è la vostra verità, di parlarvi chiaro in un certo senso, ok? La carta dell'eremita è comunque una carta di introspezione, è la carta del ricercatore e qui si tratta di farsi delle domande veramente tipo che cosa è importante per me, cosa mi rende felice, cosa mi fa star male, cosa mi fa sentire bloccato o bloccata, si tratta di andare ad analizzare tutte le parti di noi stessi quando c'è l'eremita, è una carta numero 9, è la carta dell'iniziazione, è come se questo momento un po' pesante, non dico che lo vivrete ma sento che state arrivando da questo momento, come vi dico, è un po' l'energia che probabilmente c'era già a fine ottobre, si va verso quello che è un capirsi di più, capire verso dove andare, è una prova questa situazione che l'universo vi mette davanti per iniziarvi appunto per darvi la possibilità di fare il passo successivo nella scala evolutiva mi verrebbe da dire. Ok andiamo a vedere per i single che cosa vi riesco a dire di più perché in realtà potrebbe essere la prima stesa diciamo, la sento più forse inerente o a un condizionamento inerente a una casa perché abbiamo la torre, quindi potrebbe essere una casa, potrebbe essere una struttura, potrebbe essere anche una questione giuridica con la torre. Sì guardate, per qualcuno potrebbe proprio essere una questione, come vi posso dire, anche di spartizione di eredità, comunque c'è qualcosa con i soldi, non avete tanti pentacoli ma sento che c'è qualche cosa con i soldi, con qualche immobile che vi fa sentire con le mani legate in un certo senso. Scrivetemi poi nei commenti. Allora per i single partiamo con un otto di bastoni e qui si parla di comunicazione, si parla di notizie, si parla di novità, anche di velocità perché normalmente è un acceleratore naturale in l'otto di bastoni. Continuiamo poi di nuovo con la carta dell'eremita, al contrario questa volta, la carta del mago al contrario è un tre di spade. Ragazzi, qui è qualcuno che ho la sensazione che sia un po' rassegnato e questa volta non in modo positivo come dicevo prima per l'appeso, ma si sia un po' rassegnato a dover rimanere da solo o a dover rimanere in una determinata situazione che forse non è proprio quella che voi vorreste. Però il punto è che avendo il mago al contrario e anche qui il cavaliere di spade al contrario mi viene da dire ma qual è la situazione che voi volete perché fondamentalmente è come se non ci fosse qualche cosa di chiaro, è come se non sapeste bene da che parte far andare il carro, mi viene da dire. E abbiamo questo tre di spade, guardate con il diavolo, la torre al contrario e il mago al contrario qui c'è aria di manipolazione o condizionamento mentale che potrebbe essere stato inflitto, inflitto che brutto, potrebbe essere stato causato da qualcun altro e quindi qui entra in gioco questo cavaliere di pentacoli o molto più probabilmente è parte del vostro ego perché l'ego ci manipola e in un certo senso ci automanipoliamo. Quindi è per quello che c'è bisogno di fare il lavoro di introspezione dell'eremita. Capite perché avete questa sensazione di essere rassegnati? Perchè pensate di... mi parlano di doversi accontentare? Eccolo qua il carro. Per il 4 di coppe abbiamo... ah no scusate non sto spiegando le carte, ogni tanto mi confondo con le letture. Allora il 4 di... scusate... Il carro parla di movimenti, di viaggi, di spostamenti. Ne parlavo qua eh. Scegliere da che parte far andare il carro e in effetti è uscito. Guardate la seconda parte del periodo... andiamo a vedere anche qual è l'ultima carta ma la seconda parte del periodo la vedo molto positiva se ve la devo dire tutta. Perché quando c'è la carta del carro è perché qualcuno prende una decisione, fa un movimento, fa uno spostamento e si va verso il 9 di pentacoli, verso la propria indipendenza ma con amor proprio che è quello che si va a lavorare con queste due carte. Diciamo che il... l'eremita vi dà la possibilità di integrare questa energia e di andare poi verso quello che è una rinnovata concretezza e stabilità per lo meno, per lo meno materiale. Perché poi avete comunque ancora l'asso di spade al contrario e vi dico che potrebbe esserci ancora un po' di confusione mentale ma giustamente quando si esce da energie molto pesanti, una situazione molto pesante, ci vogliono settimane, a volte anche molti mesi, puoi riuscire a livello energetico, a livello emotivo da un... da uno stato d'animo, ok? Perché man mano che passa il tempo si cura la ferita, si aumenta la comprensione, quindi pian piano la ferita si va riemarginando. Se vi devo dire... Sì, potrebbe essere che si presenti una persona nuova perché comunque il re di pentacoli potrebbe anche essere una persona nuova che entra nella vostra vita, potrebbe essere proprio durante un viaggio, durante uno spostamento, durante un movimento. Quando c'è il carro si parla anche di trasloco e considerato che qua avevo detto che all'inizio c'è una questione relativa alla casa, per qualcuno si può trattare di cambiare casa, ipotesi, e di diventare indipendenti. Perché probabilmente molte persone nella situazione in cui sono, magari anche familiare, hanno bisogno di prendersi uno spazio per sé, perché lo spazio in cui vivono attualmente li fa sentire tra diavolo, torre, appeso, quindi non è un bel sentire. Che altro dirvi? Beh, no, dai, ma mi sembra un buon periodo comunque. Sì, è vero, c'è questo 3 di spade che è un po' pesa, ma considerato come partite, direi che si va verso un momento migliore, verso un momento più sereno. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Wow! Re, regina di coppe. Ma è allora! Ma che bello! Qui si parla di una coppia per destino, eh? Re, regina di coppe. Si parla di una coppia matura comunque. Ecco la nota dolente che mi rappresenta il diavolo. Le spade, il 7 di spade. Il 7 di spade fa riferimento, sento che qui siete voi, che non siete tanto onesti con l'altra persona o con voi stessi. Perché comunque il 7 di spade è un po' l'energia della luna, in che parla di proiezioni. Parla di qualcuno che dà per scontato certe cose. Le proiezioni sono, non so, noi abbiamo un certo tipo di paura, diamo per scontato che anche tutto il resto del mondo abbia lo stesso tipo di paura. Però ecco, non è così. Andiamo a vedere come andiamo avanti, come prosegue il periodo. 3 di pentacoli al contrario. Poi ne è uscita un'altra, adesso la vado. Allora, 3 di pentacoli al contrario. La carta degli amanti. 6 di spade. Interessante. Perché qui pare che ci sia una bella sintonia a livello emotivo, perché i re e i regini di coppia mi parlano di una coppia per destino, di una coppia comunque matura da un punto di vista emotivo o da un punto di vista della relazione, nel senso che magari è diverso tempo che vi frequentate, quindi la relazione ha una certa maturità. Però ecco, con questo 7 di spade e il 3 di pentacoli al contrario, mi fa capire che non sia molto chiara la direzione da prendere. È per quello probabilmente che c'è questo cavaliere di pentacoli, no? È vero che quando c'è il cavaliere di pentacoli, viene, porta un'offerta ed è un'offerta di tipo concreto. però è anche una persona che fa un passo o mezzo per volta. Però con il 7 di spade sento che sarebbe un controllarsi. Avete anche il fante di spade qui, eh? Non lo so, è come se qualcuno fosse veramente condizionato con queste carte qui iniziali. E il 3 di pentacoli al contrario mi dà da pensare che in realtà qualcosa di concreto non si stia costruendo. Cioè nel senso, sì, può essere che ci sia una relazione a livello emotivo, che si sente tanto trasporto, però poi a livello concreto manca quel tipo di come vi posso dire? Di progettualità. Cioè dove va la relazione? Dove stiamo andando? Poi abbiamo gli amanti, però, eh? Sia gli amanti che il carro in tutte e due le linee, quindi sono due carte di scelta. È anche una carta che parla di amor proprio, la carta degli amanti e qui abbiamo sia il diavolo che la torre che parlano proprio di quello che è il ridimensionamento dell'ego. Quindi, ragazzi, vi dico che è un periodo dove si va verso l'equilibrio e in realtà già lo sento qui. L'unico neo negativo forse un po' in questa zona della lettura, però. Andiamo a vedere che ultima carta ci danno perché il 6 di spade che ho qui mi dice che c'è qualcuno che si staccherà da qualche modo di pensare. Vi ricordo che i singoli avevano la carta dell'indipendenza e voi cioè diciamo una linea generale aveva il cavaliere di spade al contrario, quindi è qualcuno che è come se stesse per fare un qualche tipo di scelta. È un'energia che di solito va e viene e quindi è un po' il vado o non vado, faccio questo cambiamento o resto dove sono, provo per un po' e poi torno indietro. È sempre questa energia un po' intermittente e qui è un po' come se vi lasciaste indietro o questo tipo di atteggiamento se è il vostro o questo tipo di relazioni. Perché quando c'è il cavaliere di spade al contrario parla di di un corteggiatore un po' invadente, un po' troppo rapido mentre invece sento che voi siete più da cavaliere di pentacoli andreste di più con i piedi di piombo. Comunque sta di fatto che avete un set di coppe alla fine della lettura quindi si va verso quello che è un'apertura di altre possibilità proprio grazie attraverso il movimento che si fa con la carta dell'eremita e il riequilibrio di voi stessi il darvi un maggior valore con la carta degli amanti. Guardate io qui sinceramente potrei interpretare il diavolo come sette di spade e la torre come il tra di pentacoli al contrario. Perché poi in realtà la carta degli amanti è una bella carta mi parla di un equilibrio che ci sarà nel futuro è quella relazione che nasce quell'amore romantico che nasce in modo puro in modo genuino e qui abbiamo anche queste due figure che sono due figure dello stesso sistema in più di coppe. Quello che stona della lettura diciamo che sono questo sei e sette di spade che rivedo un po' qua all'inizio secondo me c'è proprio da ridimensionare l'ego il diavolo parla di ego quello che l'ego tende a farci identificare con i nostri risultati io valgo se ho quel risultato io sono qualcuno se ho questi soldi e quindi si perde un po' di vista alle volte quello che è il bene superiore per entrambi magari per la coppia quindi magari ci si è messi degli obiettivi che bisogna appunto come vi dicevo prima ridimensionare una volta ridimensionati questi obiettivi qui si va verso una apertura di nuove possibilità ok andiamo a vedere un oracolo per chiudere la lettura io intanto voglio ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like con i vide con le sottoscrizioni con i commenti con le condivisioni e con le donazioni ogni tipo di aiuto per me è importante per far crescere il canale e intanto vi ricordo anche che ho già pubblicato le previsioni per il 2023 sia quelle generali che quelle inerenti alla crescita spirituale ok fai attenzione alle bandiere rosse ci sono segnali che ti mettono in guardia e ve la metterei qua tra appeso diavolo e torre nuovo amore e infatti per i single c'è questo re di pentacoli che potrebbe entrare guardate ve lo metto qua una nuova persona ha risvegliato i tuoi sentimenti dice e poi wow e poi abbiamo passione permetti a cuore e anima di cantare con gioia e ve la metto qui diciamo tra il 3 di spade dei single che hanno questo dolore ancora da lavorare e la carta degli amanti che parla di amor proprio amici dell'acquario questo è quello che va per voi spero che la stesa vi sia stata utile io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao ciao